ciao a tutti sono il maestro fide alessandro santagati e questo è il video dedicato alla partita del mese partita che ci sono inviata da luca franceschino partita che lui ha giocato con il nero contro giovanni mendola e lo 1688 mentre luca franceschino al momento della partita era 1560 e allora il bianco ha giocato la mossa e4 nella gioca d6 d4 all f6 dunque dopo g6 ti rientri in una perk cavallo f3 alfiere g7 alfiere 2 a rocco corto il nostro è normale un sviluppo classico a rocco corto il cavallo c6 e qui il bianco c giocare d5 è una nostra abbastanza ragionevole perché comunque la nostra cavallo e5 che comunque è giocabile porta questa posizione comunque abbastanza semplice per il bianco il bianco una struttura un po più forte prende i5 con blocca d alfiere vuol dire che il bianco sta sempre un po meglio e non ha scelto cavallo b8 è una scelta ragionevole per ripiazzare poi il cavallo magari in d7 e poi in c5 che può essere utile per attaccare 4 e qui cavallo d4 alfiere d7 e qui è da ruotare anche la nostra c5 che potrebbe essere interessante per cacciere il cavallo e sul cavallo b3 magari giocare a6 con l'idea poi di giocare sul lato di donna in questo modo può essere un'idea interessante per il nero c'è l'alfile d7 che non è male però d7 magari era più utile per il cavallo alfiere 3 e c6 a4 donna 5 qui anziché donna 5 il nero aveva l'opportunità di cambiare in d5 con l'idea poi di giocare sul padone in d5 dunque magari punterà cavallo a6 cavallo b4 cavallo c7 e d'altronde se il bianco prende è vero che si crea una doppiatura però il nero ottiene un grande vantaggio un grande compenso dinamico perchè l'alfile e la torre possono montare su b2 e il piano di d5 rimane sempre un po' debole dunque alla fine questa struttura non dispiace al nero e qui il nero ha deciso donna 5 cavallo b3 donna via e f3 qui l'idea probabilmente il più forte del bianco era donna d2 con l'idea torre d1 cioè l'idea è praticamente di pressare sul punto d6 e magari costringere il nero ad un certo punto a fare c5 cosa che poi avrebbe dato magari il bianco via libera per un attacco sul lato di re questo è importante perchè quando vogliamo creare un attacco sul lato per esempio in questo caso il bianco potrebbe puntare ad un attacco sul lato di re il bianco ha interesse nel bloccare il centro e magari può essere utile provare a fare donna d2 prima perchè magari crea una pressione sul centro il nero magari per evitare la blocca e a quel punto poi libera con torre a1 di puntare ad un attacco sul lato di re con f4, 5 magari attacco il bianco dentro molto forte e mentre qui andò davanti con dunque f3 torre 8 donna d2 a5 a5 non capisco bene la motivazione perchè non credo ci sia motivo di bloccare questo pedone eventualmente potrebbe essere più logico a b6 se proprio vogliamo spingere un pedone magari spingo quello b però neanche questo ha senso perchè non devo sviluppare l'alfiere dunque comunque a5 ah ok penso di aver capito se l'idea era di fare cavallo a6 solo che aveva sempre della presa dell'alfiere cioè non ha giocato il nero questa mossa che aveva quello di l'alfiere per a6 comunque questa non è sempre abbastanza buona per il nero questa posizione non è dunque potrebbe fare tranquillamente cavallo a6 senza a5 secondo me con qua a5 torre 1 presa presa e cavallo a6 cavallo b5 cavallo in b4 si chi attacca d5 c4 e qui a5 che anche qui non vedo una grande modellazione di spingere il pedone con cui indebolimento sul lato di re qui diciamo le mosse che mi vengono in mente sono magari o cambiare subito l'alfiere sul cavallo e su magari a per b giocare sul centro dunque giocando e6 per diciamo costringere il nero cioè costringere il bianco ad aprire la sfiera di campo su ma che è d per e6 torre per e6 dunque un po' il nero deve giocare in maniera dinamica poi vedendo con h5 via libera cavallo d4 e h7 cavallo c2 e questo è un errore cavallo c2 perché il bianco qui sta sicuramente meglio e non ha interesse a cambiare i pezzi il cavallo in b4 è vero che è su una casa forte ma è anche vero che gioca da solo dunque non abbiamo la necessità di toglierlo di mezzo e qui il bianco avrebbe dovuto puntare su un attacco magari centralizzare i pezzi contro il d1 o anche puntare a magari mosse anche come re h1 per aprire magari poi la posizione con f4 g4 in futuro potrebbe essere interessante invece ho giocato cavallo c2 cavallo per donna per e alfiere f5 e l'eroe siamo abbastanza contento di cambiare i pezzi perché rende più semplice la sua difesa giustamente infatti come vedete cambia tutti i pezzi giustamente e cavallo c5 già qui la posizione è più equilibrata il bianco perde una buona parte del suo vantaggio perché si è vero che l'erae un po' scoperto però con pochi pezzi è difficile attaccare questo cavallo in b5 è forte ma non aiuta nell'attacco dunque il bianco perde un po' di slancio nell'attacco qui dunque donna e3 donna d7 torre b1 sul bianco vorrà cambiare piano però è difficile spingere in b4 dunque non so cosa posso fare donna c3 donna in c6 in d8 e poi gioca b4 presa in b4 torre in b4 e torre a5 il nero qui gioca bene blocca il pedone a punta tutti i pezzi sul pedone a e forse sta un pizzico meglio il nero adesso donna c2 torre a8 f1 donna d7 e bianco non ha più piani a questo punto dunque provare a ripetere donna d8 donna in b7 qui l'interessante è che c'era una mossa davvero molto insidiosa che era donna h8 lì l'idea è praticamente di costringere il bianco a fare torre a2 e poi puntare a creare anche un po' di pressione dall'altra parte con h4 non so se lui magari sta a fermo non fa nulla poi il nero incomincia a creare un po' di di pressione magari può venire in mente qualche tattismo del genere tipo per esempio donna b2 in questo caso per esempio darebbe matto no? non guai era interessante questa idea è un po' molto molto profonda però carina e donna b6 è stata giocata e poi qui il nero diciamo ha preferito come entrambi giudendo ha preferito ripetere penso qui la voluzione sia pari dunque alla fine è stata patta per ripetizioni di mosse è un partito interessante diciamo tematiche importanti dello spazio ricordate che quando avete più spazio è importante attaccare se attaccate non dovete cambiare i pezzi ed è fondamentale avere un piano di gioco dunque trovare un piano di gioco cercare di svilupparlo nel miglior modo possibile queste sono le lezioni vincere che possiamo diciamo cogliere da questa partita spero che la partita vi sia piaciuta che il commento vi è stato utile se avete le domande sulla partita chiaramente scrivete nei commenti e se avete delle partite interessanti da inviarci chiaramente inviatecela info-cestlogger.com e stiamo felici di visionarle e magari commentarle per il prossimo mese grazie per aver visto il video alla prossima ciao ricorda di seguirmi sui social networks e di condividere il video grazie